Il progetto del nuovo terminal dell'aeroporto internazionale di Amman, intitolato la Regina Alia, è stato elaborato dallo studio londinese Foster & Partner e prevede per la copertura 127 cupole modulari in calcestruzzo prefabbricato con 5 forme e dimensioni diverse, per un totale di circa 70.000 metri di superficie da impermeabilizzare. Le cupole prefabbricate a terra sono poi issate in quota grazie a gru speciali e montate su una serie di pilastri e travi di sostegno che inglobano anche i lucernari. I moduli prefabbricati sono finiti ed impermeabilizzati in quota e una volta completati vengono poi protetti da un cladding in lamiera metallica, installato su opposite staffe ancorate meccanicamente ai moduli in calcestruzzo. I punti critici affrontati durante la scelta del sistema impermeabile, risolti brillantemente dall'utilizzo del manto sintetico FLAG, possono essere qui di seguito riassunti. Le marcate pendenze dei moduli a cupola in tutte le direzioni, la bassa qualità di finitura dei moduli in calcestruzzo, le penetrazioni delle staffe di sostegno dei cladini di copertura nel pacchetto impermeabile. La principale difficoltà legata all'applicazione di un sistema impermeabile su una superficie curva con marcate pendenze è stata brillantemente risolta grazie all'utilizzo di un pacchetto impermeabile prodotto da FLAG SPA, società del gruppo Soprema. La soluzione adottata ha consentito ai vari elementi utilizzati di garantire la tenuta impermeabile del sistema e la perfetta aderenza al supporto modulare in calcestruzzo armato. In particolare, la perfetta aderenza del sistema è stata garantita dall'utilizzo di Sopravap 3 in 1, prodotto da Soprema, azienda leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni impermeabili. Sopravap 3 in 1 garantisce, tramite una sola applicazione, tre differenti funzioni fondamentali ad un pacchetto di impermeabilizzazione su superfici in calcestruzzo. Sopravap 3 in 1 agisce infatti come primer, barriera al vapore e adesivo per l'elemento termoisolante. Grazie al suo stato fisico denso e viscoso, il Sopravap 3 in 1 si adatta perfettamente alla scarsa qualità di finitura dei supporti modulari in calcestruzzo di questo cantiere, fornendo una base di applicazione omogenea e livellata per l'elemento termoisolante. Sopravap 3 in 1 garantisce inoltre un'efficace impermeabilizzazione delle zone critiche come quelle in corrispondenza delle penetrazioni delle staffe di sostegno del cladding di copertura. La base delle staffe si trova in questo modo ad essere annegata nello strato di Sopravap 3 in 1, riducendo al minimo il rischio di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza dei punti di fissaggio. L'elemento termoisolante, costituito da pannelli in poliuretano con finitura a velo di vetro, viene poi posato a contatto con Sopravap 3 in 1, fissandosi efficacemente al supporto in tempi brevissimi. La vera protezione impermeabile del pacchetto viene garantita dall'applicazione a totale aderenza della membrana sintetica in PVC FLAGON SV con spessore di 1,8 mm. Questo manto sintetico FLAG è rinforzato al suo interno da un velo di vetro che garantisce la stabilità dimensionale del manto in PVC. L'incollaggio sui pannelli isolanti viene eseguito tramite l'applicazione spray di un adesivo a contatto, FLACOL P1M, appositamente studiato per il clima caldo e per consentire una notevole velocità di applicazione che permette di ridurre i costi ed i tempi di installazione. Tutti i materiali del pacchetto impermeabile sono stati prodotti dalla FLAG SPA del gruppo Soprema, società con un'esperienza consolidata nella progettazione e fabbricazione di sistemi impermeabili che garantiscono la totale difesa dall'acqua in ogni situazione.